Sì, come abbiamo preso strappo e tutti sono rallentati e poi alla fine tutti siamo un po' aggruppati, no? E poi da ultima curva avevo troppo per rimontare, però dai, è un po' di colpa mia, sì. Credo il rapporto giusto, solo che troppo dietro ero. Ma se vincevo oggi credo che andava meglio.